Buongiorno, siamo in diretta da SG Seneca per presentarvi l'esperienza di cittadinanza attiva svolta da ragazze da seconda G e seconda H del liceo Lucio a Nero Seneca, indirizzo economico-sociale. Un'esperienza di coraccolta che ha coinvolto nei ragazzi dell'arrivazione delle spiagge del litorale Fraglio ed in particolare delle spiagge del Pozzo e Miseno della località di Bacoli. Ecco il nostro servizio speciale, diamoci un'opportunità. Siamo in diretta dalla spiaggia del Pozzo di Bacoli, per mostrare le condizioni che versano le spiagge tra l'arrivazione di Bacoli. Tutti questi rifiuti sono stati portati dal mare, ci sono buste di plastica, bocchette e cartone. E in tutti questi rifiuti, se continuiamo a cercare, se c'erano le rifiuti nel mare, in realtà non avremo più un posto dove poter portare i bambini a giocare, prendere il sole e poter andare al mare. In più queste buste di plastica bocate nel mare vengono uscite da bambini e da salute, che prima o poi moriranno. Meno male che ogni anno ci sono dei volontari che si impegnano a pulire le nostre spiagge. Meno male che ogni anno ci sono dei nostri spiaggi, spiegare le nostri spiagge. Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 www.mesmerism.info